Dove c'è la bellezza, la cura, non attecchisce il crimine. Bitonto prova a cambiare volto utilizzando anche l'urbanistica come strumento per rilanciare un'idea di legalità diversa. Il progetto di recupero della circonvallazione che dà sulla Mabalice, ribattezzata Lungolama, per il sindaco Michele Abaticchio può essere considerato una possibilità di rinascita per l'intera area. Un finanziamento complessivo di 12 milioni di euro tra fondi Cipe intercettati due anni fa e fondi europei intercettati l'anno scorso ci consentirà di riacquistare il nostro rapporto con la Mabalice attraverso la riqualificazione di via Castelfitardo, via Galilei con l'allargamento dei marciapiedi e la trasformazione al senso unico di marcia. Questo comporterà sia eliminazione di parcheggi che peraltro non possono neanche esistere in quanto ci sono anche divieti di sosta che vengono regolarmente trasgrediti e che invece poi non lo saranno più perché le opere pubbliche non consentiranno più, fatte in un determinato modo, non consentiranno più parcheggi abusivi da questo punto di vista, ma soprattutto ci riconsentiranno di riacquistare il nostro rapporto con la Lama e di costituire una vera e propria nuova attrazione turistica per la città, oltre che per riqualificare Piazza Caduti del Terrorismo, l'ex macello che diventa anche punto di osservazione della Lama stessa, il luogo di fruizione sia per chi vuole depositare le biciclette, vuole parcheggiare le biciclette, ma per chi vuole vivere un rapporto migliore con la Lama. Un progetto per cui il sindaco è stato spesso attaccato in questi mesi anche perché avrebbe intaccato gli interessi dei clan in quella zona. Sicuramente la mafia aggredisce dove ci sono degli spazi abbandonati, dove la gente ha una percezione di abbandono da parte dello Stato e lì sopravviene un altro tipo di organizzazione, un altro tipo di Stato, uno Stato che porta malattia, porta distruzione, però si presenta in realtà come un'organizzazione efficace ed efficiente. Se invece noi restituiamo spazi vivibili ai cittadini, li andiamo a contrastare, andiamo a lanciare un messaggio importante.